Allora Daniela, tu hai iniziato anche tu quasi per sbaglio a fare l'operetta. Sì, sì, il Teatro Verdi di Trieste cominciava a rifare la grande tradizione dell'operetta che c'era già stata ma al castello di San Giusto, invece l'ha portata al Teatro Verdi e io... Al Teatro Politeama Rossetti. Al Teatro anche Politeama Rossetti e io cantavo un po' anche al Teatro Verdi, l'opera. Il dottor Gileri che era il patron del festival un certo giorno mi ha detto sentiti ma che piasaria far l'operetta e io sinceramente non sapevo che genere fosse, non lo conoscevo. Ho detto sì, 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 sì e così ho cominciato. Diciamo che ci è piaciuto e ti è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo anche perché mi ha aiutata molto nella scena, nel contatto con il pubblico, insomma è stata una scuola, una grande scuola. Bene, e adesso tu ci darai un'elezione di grande scuola interpretando un brano che curiosamente è sempre di Carlo Lombardo ma che preferi firmare con lo pseudonimo Leopard. e dalla duchessa del bar Tabaren, frufru del Tabaren, Daniela Mazzucato. Grazie. 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 Grazie.